Da sentire. La popolare pop band palermitana dei tre terzi, formata da Claudio Terzo, Ferdinando Moncada, Nicola Liuzzo e Diego Tarantino, suonerà oggi alle 21 all'Auditorium Rai di Viale Stasburgo 19. Presenta Lello Nalfino. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Un programma che spazia da Sibelius a Schubert e Schumann. E quello proposto nel sedicesimo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, oggi alle 17,30 al Politeama Garibaldi. Sul podio, l'olandese Jan-Willem Devriand. Violoncello solista, Vittorio Ceccanti. In programma Carelia Suite, OP. 11, di Jean Sibelius, concerto per violoncello e orchestra in La minore, OP. 129 di Robert Schumann, Sinfonia N. 6 in Do maggiore di 589 di Franz Schubert. Oggi la Triface Band ritorna sul palco del Vintage Club di Palermo di Via Piccola Teatro Santa Cecilia con il suo mix di rock, pop, blues, reggae, danze e sol. Il gruppo ormai affermato nel panorama musicale palermitano, costantemente in giro per la Sicilia, guidato da Paul Di Maria, voce e chitarra, e formato da Werther Bottino, chitarra e cori, Antonio Amato, batteria, e Chris Bottino, basso elettrico, propone un repertorio che comprende tutte le hits più gettonate degli ultimi 50 anni fino alle più attuali. L'inizio del live è alle 22.00. A seguire di lunga set con di lunga pecs. L'ingresso alla serata è gratuito. Stasera al Dorian di Via Gerbasi ci sarà una serata tributo a Lucio Battisti con il concerto dei Coni Non Dire No in prima fila, che si alterneranno sul palco nel cantare brani del cantante di Poggi Bustone con Mona Lizard Band, Exit, Roberto Di Laura, Vittorio Di Matteo, Daniele Riso, Sergio Ciulla. Sicilia chiama Irlanda, in nome della più importante band musicale attiva nel mondo, gli U2. Sarà un evento davvero indimenticabile la prima riunione degli U2 Sicilian Fans, ovvero una serata concerto con ospiti esclusivi, totalmente dedicata alla band di Bono Vox e all'importanza che questa ha avuto, con i suoi messaggi che hanno rivoluzionato la musica, ma anche i temi sociali. Punto di incontro per tutti i fan degli U2 sarà oggi alle 21.00 dai Candelai in Via Candelai 65, dove lo speaker Mario Caminita sarà il padrone di casa, ospitando non solo gli U2 Maniaci, ma anche tutta una serie di ospiti esclusivi. Così chi sarà presente potrà conoscere Patrick Broeckelbank, ovvero il fotografo ufficiale della band ai suoi esordi, autore del libro Where the Streets of Tuonams e autore di una raccolta di scatti inediti ed esclusivi degli esordi della band, in una mostra permanente presso il Little Museum di Dublino. Altro ospite sarà Angelino Lanzino, il sosia ufficiale di Bono, riconosciuto dallo stesso cantante. Parte centrale della serata sarà il concerto, che vedrà protagonisti Wokon, ovvero la U2 Tribute Band di Palermo. Sarà un fine settimana a Marcord quello che si annuncia al siciliano, dove per la prima volta, venerdì e poi ancora domenica, si esibiranno i Last Temptation, la mitica band capitanata dal cantante Sandro Pantano, icona cittadina degli anni d'oro del Malaluna luogo di culto della musica di quegli anni. I Last Temptation sono la band di matrice rock blues fondata da Pantano insieme ai musicisti e amici di una vita Fabio Lannino e Luciano Monterosso. E' con l'oro che Alessandro ritorna in città dopo tanti anni, con il solo desiderio di divertirsi e far divertire. La band si esibirà con questa formazione, Alessandro Pantano, voce, Fabio Lannino, basso, Luciano Monterosso, chitarra e armonica, Dorotea Pace, chitarra, e ciccio drummer, batteria. Lo spettacolo va in scena domani alle 22,15. Ingresso libero. Appuntamenti. Una settimana di solidarietà al Conca d'oro. Si inizia oggi con un doppio appuntamento. All'interno del Centro Commerciale di Via Lanza di Scalea saranno presenti i volontari della Fondazione Banco delle Opere di Carità e i volontari della ISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. I primi saranno impegnati, grazie anche collaborazione dell'ipermercato Aucan, nel combattere lo spreco alimentare attraverso la raccolta gratuita di alimenti che verranno donati alle famiglie indigenti. I volontari della ISM, invece, oggi, domenica e giovedì meno doneranno delle piante di gardenia e di hortensia a fronte di un contributo per sostenere la lotta alla sclerosi multipla, una malattia che colpisce principalmente la popolazione femminile. Da leggere Oggi alle 18 alla Libreria Feltrinelli di Via Cavour ci sarà la presentazione del libro Rosso Lupo di Francesco Lupo. A teatro Al Teatro Nuovo Montevergini lo spettacolo Kelly Cetriolina scritto e diretto da Giovanni Lomonaco, con Rori Quattrocchi e Ada Totaro. Lo spettacolo, prodotto dal Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino in collaborazione con Teatro Bastardo, rimarrà in scena fino al 7 marzo. Oggi e fino al 5 marzo al Teatro Biondo arriva lo spettacolo Medea, nella storica edizione diretta da Luca Ronconi. Lo spettacolo prodotto da Centro Teatrale Bresciano, Teatro degli Incamminati, Piccolo Teatro di Milano e Teatro d'Europa, è basato sulla traduzione di Umberto Albini di Medea di Euripide. Da vedere Arriva fino al 10 giugno a Villa Zito e invia a libertà la mostra dedicata ai pittori caravaggeschi. Inconsapevolmente pop? I collage di Demetrio di Grado attraversano gli anni. Spostano l'attenzione sul concetto di bellezza rivelando inaspettate influenze retro, ma è così vicina a noi. Scrive così Francesco Piazza, curatore della mostra King di Demetrio di Grado che sarà inaugurata oggi alle 19 alla Galleria Giuseppe Veniero Project, in Piazza Cassa di Risparmio, 22, a Palermo. La mostra resterà in essere fino al 10 marzo. Al Castello Amare di Palermo, si può visitare la nuova mostra di Francesco Anastasi, intitolata Connubio Arte e Moda contro la violenza sulle donne. Non saranno, infatti, solo tele e tavole ad ospitare il caratteristico tratto del pittore palermitano, con i contorni larghi riempiti da colori brillanti ma anche abiti lunghi e gonne, che saranno esposti fino al 31 marzo nel ristorante e spazio culturale ideato dallo chef natale Giunta, alla Cala. La mostra Conversation, Dialogo con l'Arte sarà visitabile fino al 2 marzo, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19 al Palazzo Giango di Via Lincoln. Arriva fino al 10 giugno a Villazzito in Via Libertà la mostra dedicata ai pittori caravaggeschi. Al Museo Riso di Corso Vittorio Emanuele arriva la mostra di Carla Oreat dal titolo Argonautiche a cura di Giovanni Bonanno. L'allestimento è visitabile fino al fino 14 marzo. A Palazzo Sant'Elia di Via Mequeda si può ammirare l'esposizione dal titolo Ricordi futuri 3.0 a cura di Ermanno Tedeschi e Flavia Alaimo. L'allestimento è visitabile fino al 24 marzo. Si tratta di un'esposizione originale e multimediale con installazioni, oggetti simbolici ed opere d'arte contemporanea, video e proiezioni, armonizzati in un percorso narrativo che conduce ad un'esperienza avvolgente, a tratti graffiante, a tratti subliminale, e di grande effetto emotivo nella memoria della Shoah, che in Sicilia si arricchisce di documenti e materiali storici inediti, come le lettere di espulsione dei professori universitari. Le mani di ieri e i saperi di oggi. Gli artigiani del passato che affondavano in tradizioni secolari, e i loro nipoti, gli artigiani di oggi, che navigano leggeri in mondi impalpabili dove si discute di stampe virtuali, comunicazione integrata, nuove tecnologie. Il risultato che resta sul tavolo è sempre lo stesso, l'uomo, essere pensante, deve fare i conti con il suo passato per immergersi nel suo futuro. Nasce dal confronto, la nuova avventura di E-World a Palazzo Bonocore, a Palermo, nel Museo delle Eredità e Materiali, prende vita i craft, a cura di Lucio Tambuzzo, durerà fino al 31 marzo. Patrocinio dell'assessorato regionale ai beni culturali e all'identità siciliana. Il Teatro Politeama Garibaldi di Piazza Ruggero VII sarà visitabile al mattino, 7 giorni su 7. Porte aperte dalle 10 alle 14. Sport la magia di scivolare sul ghiaccio tra volteggi, salti e pirouette. Una pista di patinaggio di circa 200 metri quadrati, sarà attiva tutti i giorni, dalle 9 a mezzanotte sino al mese di marzo. Al suo interno un'area per gustare una calda cioccolata e momenti di spettacolo, musica e intrattenimento.